Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Monreale, nel Palermitano, dove un anziano è stato aggredito e rapinato. I carabinieri hanno subito individuato i responsabili, una coppia è finita in manette. I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 64 anni e la sua convivente di 52, entrambi monrealesi, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina e lesioni personali in danno di un pensionato 72enne. I militari della sezione radiomobile sono intervenuti a seguito di una richiesta da parte dell'anziano, il quale riferiva che poco prima era stato strattonato e colpito in volto con dello spray al peperoncino, venendo costretto a consegnare la somma contante di 35 euro che aveva nella disponibilità. I carabinieri, dopo aver acquisito dalla vittima elementi utili all'identificazione dei due responsabili, tra l'altro persone note all'aggredito, li hanno raggiunti presso la loro abitazione rinvenendo, a seguito di una perquisizione domiciliare, lo spray al peperoncino utilizzato, oltre alla somma contante sottratta alla 72enne. L'anziano, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'ospedale Ingrassia di Palermo, riportando una prognosi di due giorni. Il 52enne e la sua convivente sono stati invece arrestati e condotti presso il carcere Pagliarelli di Palermo. A Modica, nel Ragusano, in manette invece è finito un 28enne tunisino, il quale ha picchiato, violentato sessualmente e rapinato una prostituta. Nei giorni scorsi a Modica la polizia ha tratto in arresto uno straniero senza fissa dimora, un 28enne, per violenza sessuale, rapina, aggravata e minacce gravi ai danni di una cittadina di origini colombiane. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti presso un'abitazione sita nel centro storico di Modica, a seguito della richiesta d'aiuto giunta alla polizia da parte di una donna che aveva segnalato di essere stata aggredita, violentata e rapinata da un cittadino straniero. La vittima ha raccontato ai poliziotti che nell'ambito della sua attività di prostituzione era stata aggredita da un cliente occasionale di origini tunisine, il quale non appena aveva fatto ingresso nella sua abitazione l'aveva colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, derubandola di due telefoni cellulari e della somma di 200 euro in contanti, costringendola infine ad avere rapporti sessuali. Gli agenti si sono messi subito alla ricerca del soggetto, di cui la vittima aveva fornito la descrizione, rintracciandolo dopo un'intensa ricerca e trovandolo in possesso dei due cellulari e del denaro, provento della rapina consumata poco prima. La donna, visibilmente scossa per le violenze subite e con il volto tumefatto, ha raccontato di essersi opposta alle richieste di natura sessuale dell'uomo e per questo era stata ripetutamente colpita anche al volto con pugni e minacciata di morte qualora avesse denunciato i fatti alle forze dell'ordine. In considerazione di quanto accertato dai poliziotti, il soggetto è stato tratto in arresto ed espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Doppio arresto dei carabinieri a Marsala. Si tratta di due uomini che avevano violato il divieto di avvicinamento alle rispettive ex mogli, come detto entrambi. Sono stati arrestati. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala, coordinati dalla locale procura, hanno arrestato due uomini per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Entrambi, sottoposti alla predetta misura cautelare, non avrebbero rispettato quanto disposto dal giudice. In particolare, un 47enne sarebbe stato sorpreso dai carabinieri all'interno dell'abitazione dell'ex moglie, la quale, impaurita, aveva chiesto aiuto ai militari dell'arma. L'altro, invece, un quarantenne marsalese, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato controllato sotto casa dell'ex consorte in piena notte. Gli arrestati sono stati ristretti presso i rispettivi domicili in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. A Castelvetrano, invece, è stato denunciato un 46enne il quale maltrattava la propria compagna e spesso davanti ai figli minorenni. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia un castelvetranese gravato da precedenti di polizia. Dagli accertamenti dei carabinieri, scaturiti dalla denuncia presentata dalla sua convivente, sarebbero emersi reiterati maltrattamenti negli ultimi mesi e, in ultimo, un'aggressione con calci e pugni al volto che hanno causato nella vittima varie lesioni, alcune delle quali gravi, compiuta davanti agli occhi dei tre figli minori. Dalla segnalazione della donna, gli uomini dell'arma hanno nel più breve tempo possibile messo in campo ogni mezzo utile a documentare i maltrattamenti che il 46enne avrebbe riservato alla vittima, che hanno così portato al deferimento all'autorità giudiziaria. Spaccio di sostanze stupefacenti a Catania con un pusher che è stato beccato e ovviamente tratto ed arresto dagli agenti della squadra mobile. Vediamo il servizio. Un 32enne è stato arrestato dai falchi della squadra mobile di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che a bordo di uno scooter aveva cercato di eludere un controllo della polizia cambiando repentinamente direzione di marcia. Durante il tentativo di fuga, fallito poiché era giunto e bloccato dagli agenti, il giovane si era liberato di una busta contenente 54 grammi di marijuana che è stata recuperata. Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, i falchi hanno trovato altri 160 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in singole dosi da destinare agli acquirenti. Oltre alla sostanza stupefacente, la polizia ha sequestrato del materiale utilizzato per la pesatura e la confezionamento e del denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio. Il pusher è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria che nei giorni scorsi ha poi convalidato l'arresto. Restiamo a Catania dove un 47enne è stato invece denunciato dai carabinieri. L'uomo infatti in casa deteneva un vero e proprio arsenale di armi a salve. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Un arsenale di armi a salve è stato sequestrato dai carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania. Era in possesso di un 47enne in passato condannato per reati in materia di armi e per associazione mafiosa che è stato denunciato. Durante un controllo nel rione Picanello i militari dell'arma hanno trovato nell'auto della 47enne tre silenziatori e due pistole a salve calibro 9 prive di carrello otturatore e di tappo rosso. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate altre tre pistole a salve e una mitragliatrice a gas soft air oltre a parti di pistole a salve. Trovato anche un alesatore in acciaio, uno strumento professionale utilizzato per forare la canna e imprimere solchi elicoidali alla stessa in modo da poterla rendere utilizzabile e conferire al proiettile una migliore stabilità lungo la traiettoria nonché maggiore precisione nelle lunghe distanze. Insomma un attrezzo, spiegano i carabinieri, per trasformare le armi a salve in pistole perfettamente funzionanti e letali. Inoltre nella sua camera da letto è stato rinvenuto un tornio elettrico portatile di precisione, un altro attrezzo utilizzato per la modifica e l'alterazione delle armi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso le indagini e gli accertamenti tecnico-scientifici per stabilire se già in questa fase della lavorazione le armi fossero idonee ad arrecare danni alla persona. E sempre a Catania la polizia ha tratto in arresto un ladro il quale insieme a un complice che però è riuscito a fuggire stava tentando di rubare un'auto. Per lui, come detto, sono scattate le manette. Vediamo i dettagli nel servizio. Nella serata dello scorso sabato un agente delle volanti, libero dal servizio, ha notato due soggetti intenti ad armeggiare su un'autovettura parcheggiata in via Antonello da Messina. I due malviventi poco prima avevano infranto il vetro della vettura per poi darsi a precipitosa fuga allertati dal sopraggiungere del proprietario dell'auto, il quale aveva azionato il meccanismo di apertura della vettura con conseguente attivazione delle luci di posizione. A quel punto il proprietario e l'agente si sono messi all'inseguimento dei due malviventi, i quali, per far perdere le loro tracce, avevano preso due diverse direzioni. Uno è riuscito a dileguarsi mentre quello inseguito dal poliziotto è stato bloccato nei pressi di un hotel della zona e con l'ausilio di una volante intervenuta sul posto è stato immediatamente arrestato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire l'attrezzo con cui poco prima aveva infranto il finestrino della vettura che intendeva rubare. Successivamente è stata sottoposta a perquisizione anche l'auto usata dai malviventi. All'interno è stato rinvenuto un dispositivo elettronico notoriamente usato per bypassare le centraline delle vetture facilitandone così l'asportazione. Dell'avvenuto arresto è stata data notizia al PM di turno che ha disposto di sottoporre l'arrestato ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il GIP il giorno successivo ha convalidato l'arresto disponendo che il soggetto permanesse ristretto ai domiciliari. Due ladri sono stati invece arrestati dagli agenti della polizia di stato a Messina. Si tratta di due giovani beccati dai poliziotti mentre rubavano uno scooter. Hanno 32 e 18 anni messinesi arrestati dai poliziotti delle volanti impegnati nel controllo del territorio. Il reato contestato è furto aggravato in concorso, nello specifico il furto di uno scooter sottratto qualche giorno fa dalla pubblica via in località Torre Faro e portato via a spinta servendosi di un altro ciclomotore. Sorpresi da un cittadino che ha dato l'allarme alla sala operativa della polizia di stato, i due, vistisi scoperti, hanno abbandonato il mezzo trafugato e sono scappati a bordo dell'altro ciclomotore in una pericolosa quanto inutile corsa conclusasi in località Sant'Agata quando, dopo una brusca frenata, sono finiti a terra mentre lo scooter impattava contro un'autovettura. Non paghi, nel tentativo di guadagnare l'impunità, il 32enne e il 18enne con precedenti penali specifici si sono dati ancora una volta alla fuga raggiungendo la vicina spiaggia. Lì si sono velocemente spogliati sperando di potersi confondere tra i bagnanti. Nonostante il vano tentativo di fuga, mai persi di vista dall'utente, costantemente in linea con la sala operativa della questura, sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti delle volanti, intanto sopraggiunti. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno proceduto all'arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria alla sottoposizione di entrambi agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Lo scooter rubato intanto è stato riconsegnato al proprietario. Quello utilizzato per guadagnarsi la fuga, riconducibile a uno dei due arrestati, è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa, revisione periodica e carta di circolazione. I carabinieri di Siracusa hanno invece tratto in arresto una 47enne per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo infatti si trovava ristretto ai domiciliari per atti persecutori nei confronti della convivente, ma i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione e ovviamente non aveva alcuna autorizzazione per farlo. Pertanto dopo le formalità di rito il 47enne così come disposto dall'autorità giudiziaria a Retusea è stato associato al carcere di Cavadonna. Torniamo adesso a occuparci del ponte sullo stretto di Messina. Nuove dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, ministro, lo ricordiamo, delle infrastrutture e dei trasporti. Stavolta Salvini ha parlato ai microfoni di Radio 24. Se tutto va come da tabella di marcia ha dichiarato l'estate dell'anno prossimo potremmo fare il collegamento dal primo cantiere dopo 50 anni. E alla domanda se quest'opera, il ponte appunto, possa essere intitolata a Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto a me interessa farlo. A Berlusconi mi unisce un affetto straordinario. Ho letto dello stadio e dell'aeroporto del ponte era un convinto sostenitore come la maggioranza degli italiani. Dunque secondo Matteo Salvini ovviamente se non ci saranno intoppi i lavori per la realizzazione di questa importante opera potrebbero partire già dalla prossima estate. Parliamo adesso di calcio e nello specifico della Palermo perché arrivano importanti dichiarazioni che fanno sognare il popolo rosa-nero. Dichiarazioni del presidente del Manchester City alla Mubarak. Ovviamente ricordiamo che il Palermo fa parte della City Group. Palermo è sinonimo di grande storia. Dichiarato ha una grande eredità, una grande regione, un club che ha attraversato anni difficili. Col nostro arrivo, ha aggiunto, il Palermo è stato promosso in Serie B. Come per ogni cosa abbiamo un progetto di crescita per tutto quello che facciamo? Nel Palermo sosteniamo il club, mettiamo a disposizione il nostro management, l'academy per i giocatori e le infrastrutture. La crescita della squadra è una conseguenza. Non c'è motivo per cui non si debba aspettare il Palermo molto presto in Serie A. È una grande squadra e abbiamo molte ambizioni per questo club. Ci fermiamo qui. Per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, ma ovviamente l'appuntamento è a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie a tutti.